Inchiesta in corso, si parla del palazzetto di Campli, si parla del sindaco quaresimale, si parla di un richiesto e rinvio a giudizio o di un rinvio a giudizio? Sì, c'è stata inizialmente una richiesta di archiviazione su questo esposto anonimo, risalente al periodo in cui svolgevo appunto il mandato da sindaco. Lì è una situazione che sicuramente il magistrato ha voluto meglio approfondire, ma che ritengo di aver fatto bene la procedura insieme alla Giunta, insieme a responsabili che tra l'altro hanno messo parere favorevole. Lì praticamente si parla appunto, come diceva lei, del palazzetto dello sport, un palazzetto dello sport che da quando è diventata inagibile la palestra di annunzio è diventata una struttura sportiva, un palazzetto, anche scolastico, perché da sempre, ma lo sanno tutti i campesi, non solo la mattina, fanno educazione di fisica ai bambini. Quindi abbiamo ritenuto darlo in uso appunto perché veniva svolta un'attività pubblica, quella scolastica, e sul fatto del canone è stata fatta una forma di baratto amministrativo che viene richiamato in Giunta, nel senso che la società fa la custodia e le pulizie del palazzetto, in cambio non pagavano il canone. Questo diciamo un po' in sintesi, quindi il Comune ha avuto pure un risparmio da questa gestione, nel senso che altrimenti doveva mettere un'impresa di pulizia, assumere un custode, oppure metterci una cooperativa che gestisse il palazzetto. Forse i suoi 9.000 voti richiamano forme anonime di denunce, perché ci sono in questo momento anche la Guardia di Finanza che va a sequestrare tantissimi altri documenti sulle somme d'urgenza. Guardi, lì in effetti nel periodo in cui ho fatto il sintesi sono state una serie di esposti anonime, anche sul palazzetto, ricordo l'esposto sul fatto che vennero installate delle poltroncine, poi anche altre situazioni che comunque sono state ritenute infondate con la richiesta di archiviazione e la conseguente accettazione. Adesso attendiamo questa udienza, io sono tranquillo, ho fiducia nella magistratura, ritengo di aver agito in maniera legittima, così come ho svolto il ruolo di sindaco. Sulle somme d'urgenza non ha nulla da dire? Ci sono state queste somme d'urgenza per intervenire, ripristinare, fare delle messe in sicurezza, però anche lì il responsabile dell'ufficio tecnico insieme agli altri collaboratori penso che abbiano fatto il loro legittimo lavoro.